Grazie a tutti Il prossimo incontro tra i due Sinterna della finale Terzo in punto posto La capiccione di Maschino 81 kg Sì, preparano Saremente ragion Niccoli Diego Oh Luca, non sperava bene Dai Rientro la terza volta Eccola la, via Una Perché? Voi bello sei comini Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!